Chi paga il prezzo della contraffazione? Gli italiani spendono ogni anno 7 miliardi di euro in prodotti contraffatti che mettono in pericolo la salute. Hanno ricadute sull'economia e pesano sul sistema fiscale. E così si riducono i posti di lavoro. A crescere è solo la criminalità. Se acquisti contraffatto non paghi solo tu. Scegli solo prodotti originali. Informati sul sito uibm.gov.it Grazie a tutti.